Venì che avevo ricordato una storia bella, una storia di me, una storia di Arlecchini, una storia che parla anche di Milano, venì, sono andato dove mi hanno detto che era questa fiera con Sibo che aveva da mangiare a tutto il mondo, e l'espora la ciamata, la manfrina, e sono passati dalla strada sbagliata, sono da su in alto verso Come, e poi sono venuto giù da quel ramo del lago, e poi sono, insomma, ho fatto tutto il giro della Lombardia prima di arrivare in mezzo, a Milano, ma boia, ma che c'è un magazzino enorme, là, un cluster dei cereali, e, capi quello, con quello si fa un pulentù che si smagna tutti, no? Eh, però, dov'è che va a fagare questa puletta, noi? Là, là che c'è un laghetto, c'è già l'acqua, basta fare un bus e accendere un bel fuoco di sotto che lo fa sbollire, no? Come facciamo il fondo? E' un legno, uh, dall'Austria, mi c'è tutto il bus dell'Austria, che è tutto sotto, che è un fuoco, bla, 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 e scomincia a sbollire, e la sbollentà, e allora, con un cluster della farina, bla, bla, mi faccio tutto questo bel pulantù, anche il cluster dentro, che poi mi animo tutto, e adesso, guardate, una rugata, un albero della vita, un albero della vita, andate, che è una bella rugata, questa puletta meravigliosa, e l'albero che si illumina, e mi cosi la pulenta, bla, 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 che sbollenta. Bene, io vi volevo salutare e darvi a rivederci in Lombardia, con lo stesso augurio di vita, con lo stesso augurio di speranza, di voglia di vivere una vita, qualunque essa sia, nel bene o nel male, meglio sia nel bene, meglio con la pancia piena. Grazie!